Ciao sono Luca di Mr. Gadget, oggi in realtà sarei pronto a mostrarvi anche una scatola di Lego Ninja Go se voi volete la possiamo montare insieme, in realtà no, è un altro giocattolo che appassiona un sacco di gente ma è qualcosa di diverso, perché posso finalmente presentarvi iPhone 8 Plus eccoci dunque alla presentazione di iPhone 8 Plus che vedete nelle mie mani nella sua colorazione rosa che abbiamo già visto in molte delle presentazioni, molte delle foto ufficiali di Apple sono proprio fatte con questa presentazione un rosa tra l'altro diverso come impatto, vedete anche in questa immagine un impatto molto diverso rispetto a quello dello scorso anno con il materiale metallico, diciamo che questa parte in vetro posteriore dà un aspetto che è molto più vicino al bianco se diamo un occhio ai due telefoni vediamo che le misure sono assolutamente identiche la cover infatti dei prodotti del 7 Plus funziona perfettamente anche per l'8 e vedete come visti uno di fronte all'altro sia molto difficile riconoscerli esteticamente è come se fossimo davanti essenzialmente alla quarta edizione dell'iPhone 6 del 2014 ecco da questo punto di vista devo dire che fatica un po' probabilmente questo oggetto a tenere il passo da punto di vista del design, sappiamo che poi ci sarà iPhone X però insomma l'iPhone 8 e l'iPhone 8 Plus forse cominciano a faticare un po' a tenere il passo con l'evoluzione estetica invece di altri prodotti tra cui il Galaxy S8, il Note 8 e se volete anche LG V30 però insomma prodotti che consolidano anche una tradizione del design allora pulsante del volume volume rocker su questo lato non cambia niente rispetto alla versione precedente qui c'è il pulsante per accensione e lo spegnimento delle suonerie sulla parte superiore lato pulito un lato con il pulsante d'accensione e il cassettino per la singola SIM la parte inferiore con le griglie invece per altoparlante per il microfono e poi l'attacco lightning port ovviamente sulla parte posteriore c'è la fotocamera doppia sappiamo già che il funzionamento è quello di un doppio sensore con diversi tipi di profondità e quando non viene usato il teleobiettivo la seconda fotocamera serve essenzialmente per leggere la profondità a dare una serie di informazioni che peraltro adesso possono essere anche date a sviluppatori esterni quindi grazie a APIs comunicate anche verso l'esterno all'interno di questo nuovo iPhone c'è il nuovo processore A11 Bionic che ha anche un'unità neurale ma su questo poi torneremo un po' più tardi allora una delle novità fondamentali con la parte posteriore in vetro viene data dal fatto che ci sia la ricarica wireless, la ricarica wireless ha la stessa identica velocità del caricabatterie con il cavo che c'è dentro la confezione che sappiamo non essere il più veloce perché quando si utilizza un sistema di ricarica veloce quello che si utilizza ad esempio con i caricatori USB Type-C abbiamo la possibilità di fare il 50% di carica del telefono in soli 30 minuti non è il caso né della ricarica wireless né del caricabatterie che viene messo dentro la confezione il modello 8 Plus ovviamente mantiene sempre il Touch ID che verrà abbandonato con la prossima versione del telefono con iPhone X e poi sapete anche che c'è sempre il 3D Touch quindi la possibilità di utilizzare una pressione prolungata della vostra icona per accedere ad alcune funzioni privilegiate del menu questa è un'opzione che avete a disposizione per le app di casa Apple ma anche per quelle esterne e questo è un altro dettaglio a cui noi siamo più che abituati hardware, torno un attimo sull'hardware perché prima vi mostravo la griglia inferiore con l'altoparlante in realtà in questo caso è altoparlanti stereo con una qualità del suono tra l'altro notevole ve lo faccio sentire sentite il volume vedete questa parte riproduce più le frequenze medio-alte qui anche una buona definizione dei bassi quindi c'è da dire che il tipo di soluzione qui avete il suono frontale qui avete il suono invece che esce in laterale vi da anche la percezione della spazialità del suono quindi della separazione stereofonica che è un dettaglio che su altri prodotti con l'uscita stereo invece non riuscite a cogliere l'altro pezzo importante sono i miglioramenti fatti alla fotocamera in particolare alla modalità di tratto e voglio farvi vedere le possibilità che avete di applicazione questa cosa tra l'altro è possibile grazie alla potenza del processore la potenza del processore che permette di applicare questi o in fase di preparazione dell'immagine oppure anche a posteriori essenzialmente lo potete fare una volta che avete scattato una foto con la modalità di ritratto potete correggere questo tipo di settaggi a posteriori potete anche una volta che avete scelto il vostro settaggio preferito essenzialmente trasmettere la vostra fotografia verranno cancellate le informazioni supplementari e quindi arriverà solo l'immagine che voi desiderate condividere ovviamente come sempre accade nel caso di iPhone la velocità di messa a fuoco la velocità di scatto è davvero elevatissima avete visto, tac, scattato subito a disposizione l'immagine adesso non riesco a mostrarvi tanto da in questo caso tra l'altro la messa a fuoco non è proprio il massimo la rifacciamo la fotografia togliamo anche questa, tac allora vediamo ecco qua, luce naturale vedete con la modalità di tratto anche però non riusciamo attorno sulla foto normale perché la modalità di tratto non mi permette di scattare correttamente vedete punto essenzialmente un dettaglio scatto tac, vedete istantaneamente disponibile un'immagine con dei dettagli guardate, vedete addirittura il dettaglio del riflesso della luce sulla superficie del tavolo vedete insomma quale genere di precisione ci sia nello scatto dell'immagine allora è un po' difficile riuscire a trovare delle novità davvero rilevanti per quanto riguarda iPhone però vi devo dire che il True Tone Display è una di queste applicato su iPad Pro vedete si vede anche dalla telecamera il fatto che cambia la tonalità della luce qui c'è una luce piuttosto fredda all'interno dello studio viene adattato essenzialmente la tonalità del display quindi per rendere la lettura sempre molto più facile rispetto a quello che fate con altri prodotti allora novità rivoluzionarie noi lo sappiamo che Apple ha preso una strada per cui oggi le novità rivoluzionarie non sono più parte della sua DNA forse ne vedremo un po' con iPhone X però essenzialmente iPhone è il prodotto che rende che massifica delle opzioni che a volte conoscevamo già da tempo probabilmente succederà per la ricarica wireless la ricarica wireless esiste da anni probabilmente vedremo per la prima volta diffondersi in modo massiccio i caricatori senza fili proprio grazie al nuovo iPhone ecco per quanto riguarda le funzionalità in particolare ad esempio le funzionalità della fotocamera torno un attimo su questo c'è da dire che non ci sono cose rivoluzionari a parte questi effetti che potete applicare queste opzioni che avete per la modalità ritratto ma c'è una riproduzione dei colori che è veramente incredibilmente naturale mentre forse quelli di Samsung sono un po' saturi un po' diciamo belli da vedere perché sembrano molto vivi ma non completamente affidabili come realismo e invece dai che ce l'ho fatto un'altra volta e invece il vostro iPhone scatterà delle foto veramente veramente notevoli sapete che all'interno del prodotto insomma è difficile riuscire anche a mostrarvi la potenza di un telefono di questo genere all'interno del prodotto ci sono sei core a disposizione due molto potenti quattro invece per diciamo le funzionalità più semplici la cosa migliore per sfruttare tutta questa potenza è quella di utilizzare delle applicazioni che abbiano diciamo sfruttino l'AR kit quindi la realtà aumentata ce ne sono diverse in circolazione che vi permettono ad esempio di misurare una stanza che vi permettono di posizionare degli oggetti esattamente davanti a voi ma nello spazio che vi circonda diciamo che nei prossimi giorni torneremo e vi mostrerò sicuramente un AR kit in funzione con alcune delle applicazioni che cominciano ad arrivare sull'app store ci sono delle novità poi che sono legate a quelle che sono le novità del software per cui un nuovo control center facilissimo da utilizzare un control center che trasmette ad esempio trasforma il telefono in un telecomando dell'Apple TV oppure per il controllo della vostra casa attraverso Philips Hue l'accesso diretto alla Tor insomma funzionalità che però sono più legate a iOS 11 piuttosto che al singolo telefono c'è l'applicazione Files che può essere una novità anche se in realtà non vi fa accedere ad un vero e proprio archivio dei dati fino alla root del telefono avete comunque un accesso limitato ma comunque quantomeno una prima organizzazione dei file che sia più facile da esplorare insomma primo impatto con iPhone 8 io ribadisco trovo che non ci sia una rivoluzione dal punto di vista del design insomma lo sappiamo è dal 2014 che essenzialmente il telefono è molto simile semplicemente fa leggermente meglio perché il telefono è molto più potente le cose che essenzialmente faceva anche prima molto bene batteria mi pare che essenzialmente sia invariata quindi io arrivo a una giornata di lavoro non vado sicuramente oltre siamo al termine di una giornata non intensissima volevo mostrarvi insomma il 47% di batteria che in questo momento ho a disposizione torneremo su iPhone per vedere la realtà aumentata torneremo su iPhone per vedere alcune delle applicazioni ci sono delle chicche che secondo me molto interessanti ad esempio quando voi accendete il vostro nuovo iPhone 8 e avete un iPhone di altra generazione con il software aggiornato sul nuovo iPhone appare un pop up come quello degli Airpods per cui potete essenzialmente abbinare i due telefoni a fare il passaggio dall'uno all'altro in modo veramente semplicissimo sono le chicche che insomma rendono l'uso di Apple più gradevole più semplice più immediato rispetto alla concorrenza ma torneremo ancora su questo prodotto che arriva nei negozi proprio in questi giorni fatemi sapere come vi sembra a fare il nostro